E' la sposa più chiacchierata di Spagna, istrionica e sopra le righe la duchessa di Alba ha 85 anni e convolata a nozze per la terza volta. La nobildonna più titolata al mondo con un patrimonio stimato intorno ai 3 miliardi e mezzo di euro non ha dubbi. Il sessantuenne Alfonso Díez, funzionario pubblico e novello sposo, ama lei e non la lunga lista di proprietà che all'annuncio del matrimonio ha scatenato la guerra per l'eredità tra i nipoti. Non c'è un'età per sposarsi, la sua è perfetta. Penso che sia a lei. Lui piace, lo vuole come marito, qual è il problema? Da mesi al centro delle cronache scandalistiche, la Cayetana, come viene chiamata affettuosamente dai fan, ha voluto festeggiare con una ristretta cerchia di amici e parenti nella residenza del XV secolo che possiede a Siviglia, una delle tante sparse per la Spagna. Fortunato che ha affittato alle telecamere per 8 mila euro il balcone con la visuale migliore sull'uscita spettacolare della sposa, da sempre amante del ballo, non si è certo risparmiata per il terzo sì, che racconta più di ogni altra eccentricità il suo amore per la vita.